Io credo che una città come Venezia non possa rimanere a lungo gestita da un solo uomo o da una piccola squadra e soprattutto una piccola squadra non eletta. Credo che bisogna andare alle elezioni. L'interregno di Zappalorto deve durare il meno possibile. Ne è convinto anche Alessandro Vianello, consigliere comunale di missionario che con molti colleghi chiede elezioni anticipate. In autunno tra ottobre e novembre è l'ipotesi che circola in queste ore. Per il centrodestra veneziano, sottolinea Vianello, è necessario trovare un'alternativa credibile alla maggioranza che ha governato la città per tanti anni, velocemente. Cercare al più presto di trovare un'alternativa che non sia l'alternativa che ci ha governato negli ultimi vent'anni perché Venezia ha bisogno di aria nuova e l'aria nuova va cercata in tutti i modi. Zappalorto ha intanto incontrato tutti i capigruppo. Con loro, confronto serrato sui 47 milioni di euro da tagliare in 20 giorni per salvare il bilancio di previsione 2014 del comune di Venezia. Sul fronte Grandinavi, Paolo Costa, ricevuto a Caffarsetti nelle scorse ore, ha fatto sapere che dovranno tornare tutte in laguna nel 2016. I comitati sono sul piede di guerra e chiedono di parlare al commissario per controbattere al presidente dell'autorità portuale.